L'ospedale di Penne, in particolare il reparto di medicina, sempre più al collasso per carenza di personale. Questo si legge in una nota firma del segretario del circolo PD di Penne, Luciano Procacci, e del consigliere regionale DEM, Antonio Blasioli, che parlano anche di mancato ripristino del numero di posti letto e di un dei ospita alla rischio chiusura. Dopo una visita ispettiva al nosocomio di qualche mese fa, oggi Blasioli punta il dito contro le mancate promesse della giunta Marsilio e si dice pronto a denunciare tutte le criticità alle autorità di controllo. Rispetto alle interpellanze di febbraio 2021 dobbiamo registrare che tutte le promesse sono state disattese nei confronti dell'area vestina, ma anche di parte della vallata del Fino. In particolare parliamo del reparto di medicina del San Massimo di Penne. L'assessore Veri promise, rispondendo a quell'interpellanza, che sarebbero arrivati dieci medici. In realtà oggi medicina funziona con tre medici, tra cui anche il primario, ed una dottoressa che giustamente è in maternità. Tra questi tre medici c'è anche una dottoressa che purtroppo per questioni fisiche, una malattia, non può affrontare la turnistica necessaria. Vi rendete conto che non è più possibile mantenere i turni all'interno di un reparto che ha 22 posti letto, che fa gli stessi ricoveri dell'ospedale di Pescara, che attendeva dei medici e noi i medici non sono arrivati. Anzi, dal 2021 soltanto a giugno del 2023, con due anni di ritardo, è stato svolto un concorso per medici di medicina. Sono state assunte cinque persone, tutte queste cinque persone sono state dirottate presso l'ospedale di Pescara. Nessuno è arrivato a Penne, quindi dei dieci medici promessi dall'assessore Veri non abbiamo visto assolutamente nulla. Oltretutto, il primario si trova nella necessità di dover far fronte a reperire risorse umane chiudendo il day hospital dell'ospedale di Penne. Il day hospital del San Massimo, non riconosciuto sulla carta, ne parleremo adesso nella rete ospedaliera, ma riconosciuto nei fatti, tra l'altro anche delle importanti collaborazioni, quindi è un'eccellenza anche con nel reparto di medicina del fegato del gemelli, ci sono stati anche dei trabianti proprio svolte negli ultimi mesi, beh, quel reparto dovrà essere chiuso e quindi Chieti perderà anche questo day hospital che è un ambulatorio molto importante soprattutto per la cronicità dei malati dell'area vestina. In più c'è da dire che il reparto di medicina che prima del Covid contava 22 posti letto e 22 di geriatria, questi riparti è stato ridotto alla metà, sono stati rifunzionalizzati i locali perché ospitavano i 22 posti letto del piano superiore, ma non è stato mai riaperto. Questa è la situazione dell'area vestina, nel momento in cui l'assessore Verì, il presidente Marsilio e i consiglieri regionali della provincia di Pescara si regolano di fronte al San Massimo a inaugurare lavori che sono stati ridotti della metà e sono stati effettuati con 5 anni di ritardo.